Buon pomeriggio da Rai Parlamento, tra poco entreremo con le nostre telecamere nell'Aula della Camera per seguire come di consueto il Question Time, aula che proprio questa mattina ha dato l'ok alla risoluzione sulle misure di contenimento del Covid. Dal Question Time di oggi risponderanno quattro ministri, il ministro dell'Ambiente Costa, la ministra delle politiche agricole Bellanova, il ministro della Difesa Guerini e una interrogazione, la prima all'ordine del giorno è rivolta al ministro per i rapporti con il Parlamento Federico Dincà che risponde al posto del ministro degli esteri Di Maio. Tra i temi in primo piano i danni causati dal maltempo nell'ultimo weekend proprio nelle zone del nord Italia, in particolare danni che hanno colpito due regioni, la Liguria e il Piemonte, ma si parlerà anche delle risorse del Recovery Fund da destinare al tutto il settore agroalimentare e anche a quello della pesca. Poi si parlerà del rilascio degli equipaggi di alcuni pescherecci italiani sequestrati in Libia e anche del tema delle responsabilità per i roghi, dei rifiuti e delle possibilità di interventi di bonifica. Siamo entrati nell'aula della Camera, vediamo che presiede il presidente della Camera Figo che tra poco darà inizio proprio al Question Time introducendo i temi che vi stiamo dicendo. Vediamo anche inquadrato in questo momento il ministro per i rapporti con il Parlamento Dincà. Un'interrogazione invece è rivolta al ministro della Difesa Guerini che vediamo in questo momento su una questione più territoriale, proprio quella del restauro del sacrario militare di Cima Grappa in provincia di Treviso. Ma in primo piano, lo dicevamo, restano il tema delle alluvioni. In quattro interrogazioni rivolte tutte al ministro Costa, interrogazioni che arrivano sia dalla maggioranza che dalle opposizioni, opposizioni che hanno dichiarato in questi giorni deludenti le politiche di Costa. Le interrogazioni sono del PD 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia. Ma ascoltiamo la voce del presidente Figo in diretta.